Mario Balotelli romantico con la fidanzata Monti, vacanza in montagna, foto. Non tira ancora aria di fiori d'arancio, non sembrerebbe, nonostante i rumor sulle nozze imminenti continuino a girare vorticosi nell'aria. Mario Balotelli non pare ancora pronto per il matrimonio, ma inseparabile da Francesca Monti. Dopo essere volato alle Maldive con la 23enne, il calciatore 32enne ora si concede qualche giorno romantico e montagna insieme alla fidanzata. La vacanza d'alta quota è appassionata e i due condividono alcuni momenti del loro quotidiano a 5 stelle. Super Mario inseparabile da Francesca, a cui è legato dall'ottobre del 2021. La ragazza. Originaria di Fermo, nelle Marche, residente a Massa Fermana, lavorava come cameriera al Tucano's Beach nella zona di Civitanova. Sulla costa adriatica. Balotelli l'avrebbe conosciuta proprio nel locale, da quel momento in poi è iniziata la storia d'amore. In montagna, sotto la neve, Mario e la Monti passeggiano, gustano cene prelibate. Si mettono in gingheri la sera, giocano anche alcune partite a biliardo. Lo sportivo i fan scherzoso chiede, anche la vostra compagna rompe per fargli le foto. Tra i due c'è un forte sentimento, un susseguirsi di ti amo. Lui le ha anche regalato un anello. Da lì è partito il gossip sulle nozze. Il feeling è massimo, al momento però nessun altare all'orizzonte. Anche l'ex di Mario, Raffaella Fico, interrogata sull'argomento, ha detto, l'ho visto per il compleanno di nostra figlia Pia. È venuto a Napoli con la fidanzata. Non si sposa, me l'avrebbe detto.